Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con questo nuovo video dopo tanto tanto tempo E stiamo per fare una reazione al video dei Super M Non vediamo l'ora di vederlo Enjoy Nel deserto E' mai esistito il Colosseo nel deserto? Che bello Fontana E' a figli loro Sembra un film I superpoteri No, io sul serio non devo vedere quanto vuoi Sembra una di quelle intro degli EXO Degli anni d'oro All'inizio Oddio Fuck La camminata Sono dentro al Colosseo comunque E' stranissimo E' più tecnologico E' l'aula Wow Wow E' stranissimo Ha solo di chitarra, ragazzi Ovvio Non me l'ho visto Degli fare un Una cosa del genere E' un mico E' un mico Ah, questo è un mico Era Marco del tuo rapporto? Non l'ho visto Oh La storia Oh Che carinobird Eh, adesso E' strantino quella mano Oh Voglio vedere comunque il cavolo di codine, eccolo il codino Bene, anche la coreografia devo dire che è molto diversa però da quelle spano di solido Sì, lui è l'unico con il... Lui è sempre capelli rovese Capelli rovese, esatto Ultimo mescio O blonde e rosa Wow, raga la fighezza La fighezza Diventa sempre più bello nel corso degli anni Guarda Luca È stranissimo però Buonmente Wow Devo capire se è ambientato tipo in un futuro lontano Sì È molto futuristico Però sembra anche un po' fantasciente Sì, esatto Loro comunque sono fatteschi Raga Guarda la camminata, i piedini Bellissimo Non saprei quale scegliere per andarci fuori a cena Sì Ho già la mia Bey Ragazzi, non c'è più corrente Vorrei sapere dove l'hanno filmato il video Sì, sono veramente... Anche perché sembra tutto fatto a computer In inglese Esatto Però in alcune parti no In deserto no In deserto no Sì È filmato benissimo Perché hanno... Esatto Di migliore Sì Sì Che balla Sì Ok, questa era BTS Un movimento però Sì Ma si muovono benissimo Cioè, si muovono proprio tutti insieme Chissà quanto... Sì Mi ha fatto bene Sì A parte che sono tutti comunque molto bravi a ballare Perché sono giusto che ho venuto i dance E hanno fatto bene, secondo me è una formazione pazzesca Sì Ovviamente è... Wow Sì Devo ancora capire quelle linee cosa ho... Troppo da fuori Però anche lo sai Raga E' diverso Dello su... No, guarda L'opzione è Oddio Bellissimo Erano solo droni Sono droni che avevano in alto Non è vero Oddio Oddio Cioè, adesso... Io voglio capire Perché la U di Super è sottolineata? Adesso lo spiegamelo Vabbè dai, sono cose inutili Comunque Molto bello Molto molto bello Pazzeschi Beh, si muovono benissimo da Dio proprio Venticinquesimo su tendenze, tra l'altro Madonna Quindi ha fatto il boom No, anche perché... Beh, guarda 12 milioni di visualizzazioni Ed è uscito E 1,5 milioni di mi piace No, veramente Beh... Che dire? Che dire? In realtà non c'è niente da dire perché Si spiegano da soli Diciamo Esatto No, veramente un video ben fatto E... Spero che ne buttino fuori altri Adesso non so se è solo una collaborazione del momento Eh, neanche io non l'ho capito Se... Comunque la tengono come unit Esatto Per prossime canzoni Per prossime canzoni O se è proprio... Se qualcuno ha sentito qualcosa Esatto Se qualcuno ha sentito qualcosa su queste... Commentate qui sotto Esatto E... Beh, sì Voglio dirti la verità Dovrei ascoltarla di nuovo Anch'io Perché è molto... Elettronica Sì, non è catchy subito Esatto Ma comunque si... Cioè, ognuna ha una voce... Comunque è distinguibile Esatto Secondo me quella di Mark La riconosce subito È vero Lui è stato molto bravo Ha una voce particolare Esatto Poi ovviamente Bekyun che... Si fa le note alte Lui si Mi fa sempre Ragazzi Anche Tempiede Lo riconosci subito E... e Kai Scusa Voglio conoscere Kai Esatto Beh, anche Lucas e... Etel Esatto È vero Veramente... No, un bel video Mi piace Mi piace come formazione proprio Secondo me... Ah, guarda, hanno fatto anche l'album In realtà The first mini album... Fuck! Allora, non è soltanto una canzone È proprio una collaborazione duratura Sono cinque canzoni Teoricamente Dobbiamo ascoltare anche quelle Cavolo, sì E... In ogni caso Commentate qui sotto Se avete qualcosa da dire sul nostro video E ovviamente i vostri pareri sul video Perché vogliamo sapere Esattamente Vogliamo conversare con voi Con voi Esattamente In più scriveteci Scriveteci o nei commenti O nelle mail Magari per comunicarci qualcosa Qualsiasi cosa Oppure per consigliarci qualche nuovo video da fare Perché da oggi in poi Ci rimetterò Abbiamo qualche idea in testa Esatto E... E niente che dire Ci salutiamo Esatto E ci vediamo presto È stato un piacere Ciao Bye Ok 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 Ma è stato secondo me bello Qui viene In realtà voglio riascoltare la canzone perché... Anch'io Però sul computer grande che adesso... È molto strana C'è sì